In tedesco esistono anche dei verbi composti con il prefisso separabile, come ad esempio il verbo heruntakomman. Questo verbo è formato dalla parola giù, herunta, che è un avverbio di luogo, e dal verbo coman, che è il verbo venire. L'avverbio herunta, messo davanti al verbo coman, diventa un prefisso separabile. Heruntakomman significa scendere, venire giù. Ora, la regola ci dice che un verbo, se è formato da un prefisso separabile, tale prefisso deve essere messo sempre alla fine della frase. Vi faccio un esempio usando heruntakomman. Ci sono svariati verbi che hanno il prefisso separabile, ve ne elenco solo alcuni. Gehen, il verbo andare, se è unito, all'avverbio di luogo hinaus, diventa hinausgehen, uscire. Kaufen, il verbo comprare, se è unito, all'articolo indeterminato uno, ein, diventa Einkaufen, fare la spesa. Nehmen, il verbo prendere, se è unito, alla preposizione an, diventa il verbo Annamen, accettare. Brechen, il verbo spezzare, se è unito, all'avverbio zusammen, diventa il verbo Zusammen brechen, crollare. Rufen, il verbo chiamare, unito alla preposizione an, diventa il verbo Anrufen, telefonare. In questo video vi coniugherò il verbo Heruntakomman, scendere, venire giù. Indicativo presente Indicative presence Io scendo Ich komme Herunta Tu scendi Du komst Herunta Lui scende Ea kommt Herunta Lei scende Si kommt Herunta Noi scendiamo Vi ha kommen Herunta Voi scendete Ia kommt Herunta Loro scendono Si kommen Herunta Nei tempi composti del verbo scendere in italiano si usa l'ausiliare avere Questo dipende però Se il verbo è usato come transitivo si usa l'ausiliare avere Se il verbo è usato come intransitivo si usa l'ausiliare essere Quindi in italiano noi usiamo l'ausiliare avere e l'ausiliare essere Mentre in tedesco per formare i tempi composti si usa solo l'ausiliare essere Il participio passato del verbo scendere è Herunta Io sono sceso Loro sono sceso Loro sono scesi Si sind Herunta Il preteritum traduce all'imperfetto il passato remoto Io scendevo Io scesi Ich kam Herunta Tu scendevi Tu scendesti Tu kamst Herunta Lui scendeva Lui scese Ea kam Herunta Lei scendeva Lei scese Si kam Herunta Noi scendevamo Noi scendemmo Vi kamen Herunta Voi scendevate Voi scendevate Voi scendeste Ia kamt Herunta Loro scendevano Loro scesero Si kamen Herunta Futuro semplice Futuro 1 Io scenderò Ich werde Herunta Kommen Tu scenderai Du wirst Herunta Kommen Lui scenderà Er wird Herunta Kommen Lei scenderà Si wird Herunta Kommen Noi scenderemo Vi werden Herunta Kommen Voi scenderete Ia vedet Herunta Kommen Loro scenderanno Si werden Herunta Kommen Come ho detto prima I tempi composti Del verbo scendere In tedesco si formano Con l'ausiliare essere Quindi vale questo discorso Anche per il futuro anteriore In italiano noi diciamo Io avrò sceso In tedesco si dice Io sarò sceso Io sarò sceso Ich werde Herunta Gekommen sein Tu sarai sceso Du wirst Herunta Gekommen sein Lui sarò sceso Ea wird Herunta Gekommen sein Lei sarò scesa Si wird Herunta Gekommen sein Noi saremo scesi Vi aveden Herunta Gekommen sein Voi sarete scesi Ia vedet Herunta Gekommen sein Loro saranno scesi Si veden Herunta Gekommen sein Il conjunctiv 2 Traduce il condizionale presente E il congiuntivo imperfetto Io scenderei Io scendessi Ich keme Herunta Tu scenderesti Tu scendessi Du kemst Herunta Lui scenderebbe Lui scendesse Ea came Herunta Lei scenderebbe Lei scendesse Si kemen Herunta Noi scenderemmo Noi scendessimo Vi akemen Herunta Voi scendereste Voi scendeste Ia kemet Herunta Loro scenderebbero Loro scendessero Si kemen Herunta Scendi Scendi tu Kom Herunta Scenda Scenda lui Kom Herunta Scenda Scenda lei Kom Herunta Scendiamo Scendiamo noi Komhen via Herunta Scendete Scendete voi Kom Herunta Scendano loro Komhen sie Herunta Scendete voi 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 Scendete voi